Perfetto, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di oggi che si chiama dal titolo Freddo, svolta green, soluzioni sostenibili e lotta al traffico illegale. Quindi grazie a tutti, lascio la parola ad Alberto che ci presenta. Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro dei webinar del Centro Studi Galileo. Oggi sono con noi ancora una volta Ernesto Ravello per conto di FCTC con la presentazione Il Contrasto al Commercio Illegale di HFC. Buongiorno Ernesto. Buongiorno a tutti. Ed è con noi anche una new entry per i nostri webinar. Marco Mancini di Legambiente che siamo felicissimi di ospitare in questa sede oggi. La sua presentazione si titolherà Rinfreschiamoci senza riscaldare il pianeta. La visione di Legambiente sul mondo degli EFGAS che era con noi a Refrigera ha avuto modo di vedere una piccola anteprima di quello che Marco ci dirà oggi. Felicissimi di essere ancora una volta qui a parlarci con questi con questi webinar. Modera come sempre l'ingegner Marco Buoni, direttore tecnico del Centro Studi Galileo, segretario dell'Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo, nonché presidente di ARIA che è la realtà europea che raccoglie 24 associazioni provenienti da tutta Europa tra le principali realtà del freddo. Come sempre potete porre domande, vi invito a sfruttare più che la chat, la sezione domande e risposte, ma leggeremo le domande anche che arriveranno via chat. Il webinar come sempre avremo presentazioni da 20 minuti, il webinar complessivamente durerà un'ora, alla fine avremo uno spazio riservato a entrambi gli speaker per un dibattito finale e conclusivo. Come sempre le registrazioni saranno poi messi a disposizione. Auguro a tutti quanti un buon webinar e lascio la parola all'ingegner Marco Buoni. Grazie mille Alberto, gentilissimo come sempre, grazie ai nostri ospiti, quindi Ernesto Ravello del FGCC, ciao Ernesto e ciao Marco Mancini di Lega Ambiente. Come detto è un webinar importante, importantissimo perché parla appunto di lotta al traffico illegale, soluzioni sostenibili, svolta green, che è quello che ormai da tempo stiamo parlando, ovviamente il nostro settore è chiave, il nostro settore è importantissimo, noi siamo responsabili del 25% dell'energia elettrica consumata a livello europeo, quindi dobbiamo essere sempre sul tavolo dei relatori, sul tavolo di quelli che discutono della decarbonizzazione, del raggiungimento degli obiettivi dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Io sono anche sedentato in un'associazione italiana che c'è nel freddo, che è appunto questo compito a livello italiano, quindi vi invito ad associarvi per essere anche voi parte di questo processo, che è il processo appunto di cambiamento verso una transizione ecologica del settore, verso una decarbonizzazione, verso una refrigerazione, un condizionamento, un pompe di calore sostenibile. Noi abbiamo anche una rivista che è Industria Formazione, vi invito appunto a associarvi, abbonarvi a questa rivista, che vi permette ogni mese di ricevere le informazioni, le informazioni che sono fondamentali appunto per mantenervi aggiornati. Il nostro settore è dinamico, vivace, è in espansione e innovativo. Questi direi che sono gli aggettivi da dare al nostro settore, ed è anche emozionante, è un settore molto emozionante, come voi sapete. Sarò molto breve la presentazione, perché ci conoscete già, però permette a questa presentazione di dar a tutti la possibilità di arrivare al webinar e di poi partire a sentire le presentazioni vere e proprie del webinar di oggi. Sono anche presente della Sottolinea Europea, Tricene Il Freddo, Aria, ve lo dico perché siamo in procinto di una revisione della regolamentazione FGAS, quindi nuove normative, nuove leggi per ridurre ulteriormente i gas refrigeranti ad alto impatto ambientale, quelli che si stanno causando i problemi di cambiamento del clima sul riscaldamento della terra. Dobbiamo assolutamente ridurre i gas HFC ad alto GWP. Già tanto è stato fatto, qualcosa si può fare ancora. Noi c'è il studio di Gheleo, lavoriamo con le Nazioni Unite, lavoriamo con la Commissione Europea, abbiamo dei progetti internazionali ed europei e nella formazione soprattutto. formazione a livello di corsi, ma anche a livello di convegni, a livello di rivista, a livello di materiale, manuali, parlare con le istituzioni, con le maggiori associazioni mondiali appunto perché è tutto un gioco di squadra e anche oggi siamo qui perché c'è un gioco di squadra dietro per trasmettere quello che è l'importanza del nostro settore e perché è importante che tutti noi ci muoviamo uniti in questo nostro obiettivo. La formazione la svolgiamo in tutto il mondo, io personalmente sono stato in Egitto tre mesi fa, in Maga Scarsa in febbraio, in Nigeria l'hanno fatto online per la pandemia nei mesi scorsi. La formazione è gran parte a distanza attualmente perché piace, così piace, nel senso che i tecnici del freddo attualmente svolgono tante formazioni a distanza e poi la pratica viene svolta a noi nei nostri sedi, nei nostri 12 sedi in tutta Italia. Noi siamo a casa di Monfarrato attualmente, io sono a casa di Monfarrato attualmente, poi tutti i nostri docenti sono in tutta Italia, anche in tutta Europa e in particolare facciamo corsi pratici nei nostri laboratori che sono a Milano, a Padova, a Bologna, a Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo e Cagliari, queste sono le nostre sedi in tutta Italia. Il nostro motto attuale è bentornati in classe, teoria da casa, comodamente da casa, dall'ufficio, non dovete muovere, non c'è hotel, comunque potete seguire bene, come si sta seguendo adesso questo webinar, ma la pratica è mettere le mani sugli impianti, toccare i gasfrigeranti a basso impatto ambientale o comunque i gasfrigeranti che saranno quelli del futuro, con le nuove tecnologie del futuro, con le nuove strumentazioni, con i nuovi utensi, con i nuovi recuperatori eccetera eccetera, con le nuove cerchefughe e tanto altro, direttamente le nostre sedi che sono super accessoriate. Inoltre gli e-learning, ormai sono pratica comune, potete trovarli su galileo-online.it, tutti i nostri corsi registrati, visibili su tablet, su computer, su cellulare anche se volete, registrati direttamente, potete visualizzarli quando volete. Importante inoltre il nostro convegno, il nostro convegno europeo, i nostri amici di oggi erano anche presenti al convegno europeo perché era un convegno internazionale con le maggiori situazioni del settore, insieme anche alla Commissione europea, abbiamo parlato del futuro del nostro settore, quello che saranno i prossimi mesi. Vado veloce, ma una cosa importante da dire è il progetto Real Alternatives. I refrigeranti del futuro saranno quasi tutti infiammabili, oppure CO2 ad alta pressione, oppure ammoniaca leggermente tossica, già duella leggermente infiammabili e quindi la formazione è fondamentale. La formazione è fondamentale e tutti questi paesi che vedete qua in verde già stanno utilizzando una formazione attualmente volontaria, tranne la Spagna e la Olanda in cui è obbligatoria, sui nuovi refrigeranti, perché i nuovi refrigeranti sì, non sono dannosi per l'ambiente, ma devono essere maneggiate in sicurezza, perché vogliamo avere una transizione ecologica, ovviamente, ecologica sì, ambiente sì, ma in sicurezza per il successo di tutti, per ovviamente un settore green in espansione, ma in maniera corretta. Noi eravamo presenti al COP, al pre-COP, che era in Milano, come sapete, il COP è stato svolto nella sua promessa preliminare a Milano e abbiamo fatto un evento proprio al pre-COP e poi al COP invece di Glasgow eravamo presenti con la nostra consociata in Scozia, che abbiamo una consociata a Edimburgo, appunto, su efficienza energetica e leggeri innovabili ed eravamo presenti lì e siamo anche comparse sul Times, magari qualcuno di voi ha visto, avevamo una pagina sul Times in cui parlavamo dell'importanza del nostro settore in questo contesto dei cambiamenti climatici. Vi ho parlato di visione dell'argomentazione FGAS, siamo in un momento molto topico, molto importante, siamo nel pieno del momento in cui la Commissione Europea è chiusa in una stanza, in un bunker e sta scrivendo la revisione dell'argomentazione FGAS. Nei mesi precedenti, 2020-2021, c'è stata una fittissima consultazione con tutti gli stakeholders, parti interessate, area ovviamente, con interviste in cui ciascuno di noi ha detto quello che volevamo nella nuova argomentazione europea. Adesso siamo nell'analisi di impatto socio-economico della Commissione Europea, quindi sta controllando ogni tassello che andrà ad aggiungere, che sarà l'impatto sociale ed economico di costi, ma anche sociale, appunto, di miglioramento del clima. E poi la scriverà questa proposta, la scriverà e ad aprile avremo una prima bozza, che ovviamente noi come Centro Studieria, come Società Ciccine di Fraide, come area, condivideremo con tutti voi, perché ovviamente è importante condividere, come ho detto, e muoverci in maniera sincrona, quindi tutti insieme, sinergica anche. E poi, vabbè, non finisce lì, la Commissione Europea propone e poi ci sarà un iter legislativo. Il Parlamento Europeo dovrà legiferare, quindi sarà un lavoro di lobby, in cui andremo ovviamente dai parlamentari, dai politici, a spiegare perché è importante quello che stiamo facendo. Perché è importante far sì che il traffico illegale di affigeranti si blocchi subito, perché è qualcosa che va contro in tutti gli aspetti ambientali, economici, di business, di formazione. Perché una volta che uno intraprende una via, chiamiamola, illegale, è poi difficile farlo rientrare nella legalità della formazione, della banca dati FGAS che abbiamo in Italia, che funziona molto bene, della certificazione, del controllo delle perdite. Quindi tutto quello che è la legalità, che sta funzionando molto bene in Italia, grazie al successo dell'argomentazione FGAS, ovviamente, della vecchia argomentazione FGAS. Chiamiamola vecchia ormai, però ovviamente è qualcosa che è tuttora attuale, tuttora sta funzionando correttamente. Quindi non si può fare altro che far sì che si lavori in maniera legale. Noi, Centro Studialeo, ARA e ATF stiamo lavorando per questo. Abbiamo scritto il pledge di AFCTC, importante. Stiamo ovviamente tramite tutti i nostri mezzi, webinar, formazione, informazione, canali social, eccetera, dicendo no al traffico illegale dell'HFC. Segnaliamo, aiutiamo a segnalare tramite l'hotline di AFCTC, tutto quello che sono i casi che noi incontriamo, e anche il Ministero dell'Italia e dell'Ambiente, ovviamente, alle medie, il Ministero dell'Italia e dell'Ambiente. Ma notiamo che ci sono dei traffici pesanti ancora sui social, su eBay, Marketplace di Facebook, qualcosa su Amazon. Noi stessi stiamo bannando, usando proprio una parola del gergo, stiamo eliminando, bloccando tantissimi fake profili di persone che cercano di vendere sui social, ufficialmente, illegale. Lo si nota subito, hanno bombole molte volte che non sono neanche più in commercio da noi, illegali, perché sono bombole usa e getta, quindi assolutamente di fidare, e molte volte, anzi direi che la maggior parte delle volte, non vi vendono, non vi spediscono neanche il refrigerante. Ve lo vendono, lo pagate e poi ve lo spediscono neanche. E voi non potete farci niente, perché? Perché stanno lavorando nella legalità, fin dall'inizio stanno lavorando nella legalità. Quindi usate solo distributori fidati, usate solo canali che conoscete, che tra l'altro vi danno formazione e informazione, vi danno collegamenti importanti per fare un lavoro fatto bene. Noi siamo orgogliosi di essere anche i heroes di FCTC, perché ovviamente nella nostra piccola formazione diamo le notizie, le importazioni che servono per tutti voi. Collegatevi con noi, tra i nostri social, mantenendovi sempre aggiornati di quello che è l'andamento, le notizie e il futuro del nostro settore. Siamo su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube. Questo stesso webinar lo troverete poi su YouTube. Conoscete il nostro sito, www.centrogarileo.it, dove trovate tutti i nostri corsi. Direi che vi siete collegati ormai quasi tutti, siamo in 63 persone collegate, altre si collegheranno ancora, quindi siamo in un buon numero. Ringrazio tutti i nostri partner, ovviamente quelli che sono qua presenti, FCTC e l'Elega Ambiente, i nostri partner, per aiutarci appunto per raggiungere le notizie certificate, qualificate, le notizie importanti per il nostro settore, le notizie giuste. Quindi grazie a tutti voi, grazie a FCTC, Ernesto Revello, che ci parlerà adesso del contesto del commercio illegale di HFC. Ernesto, se vuoi mettere il video, se vuoi mettere l'audio, la parola a te. E grazie anche a L'Egambiente, Marco Mancini, che ci parlerà assoluto dopo, poi rinfreschiamoci senza riscaldare il pianeta, la visione dell'Egambiente sugli gastrointi fluorati. Ernesto, vi senti, giusto? Sì, perfettamente. Perfetto, grazie Ernesto di essere con noi, penso che tu adesso abbia la possibilità di condividere lo schermo e buona presentazione. Grazie. Un secondo, condivido lo schermo. Lo vediamo. Lo vediamo bene, perfetto. Perfetto. Grazie Marco. Grazie a te. Allora, buongiorno a tutti, grazie Marco per la presentazione e grazie a Centro Studi Galileo per aver organizzato questo webinar oggi in collaborazione con EFCTC e Lega Ambiente. Sono Ernesto Revello, il rappresentante italiano per conto di EFCTC. Oggi tratteremo un argomento veramente importante per il settore della refrigerazione, che è la lotta al commercio illegale degli HFC. Vediamo innanzitutto di spiegare che cos'è EFCTC, chi è EFCTC. Allora, EFCTC è un acronimo che sta per Comitato Europeo Tecnico Fluorocarburi. È un gruppo di settore del Consiglio Europeo per l'Industria Chimica ed è rappresentato dalle cinque aziende che vedete nella slide. Sono i cinque più grossi produttori di gas refrigeranti, Arkema, Chemours, Dyking Chemicals, Koura e Honeywell. Gli obiettivi principali di EFCTC sono quelli di fornire informazioni sempre aggiornate sulle applicazioni, sulla sicurezza, sugli effetti sulla salute e sull'ambiente che gli HFC, quindi gli idroforo carburi e gli HFO, gli idroforo orefine, hanno e inoltre di aggiornare sempre sulle nuove legislazioni europee e internazionali in materia. EFCTC, come diceva Marco prima, si sta facendo portavoce di una campagna che è volta a generare una gran consapevolezza all'interno degli addetti ai lavori e anche con i decisori pubblici sul tema del commercio al di fuori delle quote all'interno dell'Unione Europea. Quindi entriamo più nello specifico e vediamo che cosa sono gli HFC. HFC è un acronimo che sta, come ho detto prima, per idrofluorocarburi. Gli HFC sono refrigeranti non infiammabili, non tossici, non riducono lo strato di ozono e sono efficienti dal punto di vista energetico. Presentano inoltre una serie di proprietà termodinamiche che ne consentono l'applicazione su una vasta serie di applicazioni e per alcuni utilizzi inoltre gli HFC sono ancora al giorno d'oggi una delle migliori alternative disponibili sul mercato. C'è da dire che non è la prima volta che l'industria si vede, viene effettuata una massiccia trasformazione da gas refrigeranti di vecchia generazione, per esempio con gli HFC, in quanto sono stati sviluppati proprio come alternative ai vecchi cloroforocarburi, sostanze che riducevano lo strato di ozono e che sono state gradualmente eliminate a partire dal 1996 in seguito al protocollo di Montréal. Gli HFC hanno risolto il problema del buco dell'ozono, però hanno ancora un elevato potenziale di riscaldamento globale, detto anche GWP. Quindi per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione Europea sicuramente c'è bisogno di una nuova serie di gas refrigeranti, quindi l'Unione Europea sta affrontando questo problema con una transizione a nuovi gas con minore GWP, quindi potenziale di riscaldamento globale. Quindi si sta passando a refrigeranti di origine naturale e a refrigeranti di nuova generazione come l'idroflorolefine o HFO. Non esiste, bisogna dirlo, un gas refrigerante di tipo universale che sia adatto essenzialmente a tutti i tipi di utilizzo, quindi la vera sfida al giorno d'oggi è quella di trovare la soluzione più sostenibile per ciascuna applicazione. Infatti per esempio i sistemi di climatizzazione delle auto utilizzano per esempio HFO in Europa a partire dal 2017, mentre per quanto riguarda ad esempio i sistemi di raffreddamento industriale si impiegherà più tempo per questa transizione in quanto questi sistemi hanno una durata più lunga delle apparecchiature. Del resto anche la dismissione di impianti che sono ancora funzionanti non aiuta al raggiungimento degli obiettivi climatici e soprattutto l'importazione illegale di HFC ci sta facendo arretrare per quanto riguarda questi obiettivi stringenti dell'Unione Europea. E quindi erodendo i progressi che sono stati effettuati verso questa nuova serie di gas refrigeranti con un minore potenziale di riscaldamento globale. Ecco quindi perché il lavoro, tutte le attività per cercare di fermare gli HFC legali è davvero così importante. Come vedete nella slide gli HFC sono ad oggi utilizzati per tutte le più comuni applicazioni per esempio nei condizionatori d'aria sia per auto, per case, per tutte le applicazioni negli alberghi, negli ospedali, negli edifici. Nelle applicazioni tipo estintori, quindi con gli spray e gli isolanti, nelle pompe di calore e nei più comuni sistemi di refrigerazione sia commerciale, quindi comuni supermercati, sia refrigerazione industriale. Adesso cerchiamo di analizzare che cosa è stato fatto finora per cercare di abbattere la quantità di HFC messi sul mercato europeo. Quindi per il loro impatto, come dicevamo prima, in termini di emissioni di gas serra, l'Unione Europea si è impegnata a cercare di ridurre gradualmente le emissioni derivanti dai gas HFC tramite un sistema di quote che è stato gestito tramite il regolamento FGAS entrato in vigore nel 2015. Come vedete questo face down che è partito nel 2015? È caratterizzato da una serie di quote che vengono ridotte mano a mano negli anni, per cercare di arrivare nel 2030 a una riduzione di circa l'80% delle quantità di HFC messi sul mercato europeo. Ad oggi, nel 2021, quindi a partire da gennaio di quest'anno, l'obiettivo di quote è stato quello di una riduzione del 55% rispetto ai valori precedenti. Per quanto riguarda gli impatti che il commercio illegale di HFC ha sulla nostra società, bisogna innanzitutto dire che il mercato nero dei gas refrigeranti negli scorsi anni ha avuto una crescita molto forte in tutto l'ambito europeo e c'è da dire che questa attività illegale finanzia innanzitutto le organizzazioni criminali, minaccia inoltre le piccole aziende che lavorano in modo illegale con la propria attività e vanifica, come detto prima, i progressi che sono stati fatti verso gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Inoltre, ci possono essere anche delle serie implicazioni per quanto riguarda il tema sicurezza e salute, in quanto non si sa che tipologie di prodotti si stanno comprando, quindi si stanno comprando possibilmente dei prodotti pericolosi, non certificati, quindi con problemi relativi all'infiammabilità e alla tossicità o con performance che non sono garantite in quanto di dubbia provenienza. Inoltre, tutto ciò, quindi il commercio illegale di HFC, rallenta il processo di ricerca e sviluppo su prodotti a minore impatto ambientale, come ad esempio le idroflorolefine o HFO. Per darvi anche un'idea dell'impatto finanziario che il commercio illegale ha, per esempio, sulle finanze pubbliche, basti vedere questa slide, con, si è stimato circa centinaia di milioni di euro in tutta Europa dovute ai mancati introiti sia per quanto riguarda l'IVA che per i dazi doganali di questi prodotti importati illegalmente. Ma vediamo, adesso cerchiamo di entrare più nel dettaglio di come agiscono le organizzazioni criminali. Allora, queste organizzazioni sostanzialmente aggirano la catena ufficiale di approvvigionamento, quindi in molti casi, come diceva l'ingegner Buoni precedentemente, vengono offerte delle bombole non ricaricabili su piattaforme di commercio online o soprattutto sfruttando gli accordi di transito doganale, quindi per cercare di nascondere le spedizioni di questi prodotti che vengono importati illegalmente in Europa. Inoltre, successivamente, questi HFC che vengono introdotti illegalmente all'interno del mercato europeo vengono poi acquistati da rivenditori inconsapevoli, che non sanno che cosa stanno effettivamente comprando e vengono poi consegnati al cliente finale, dove poi vengono introdotti successivamente, ad esempio, nei sistemi di condizionamento d'aria che vengono utilizzati da noi quotidianamente. Con le attività recenti di questi ultimi anni, con le investigazioni, la consulenza di aziende specializzate, sono state messi alla luce quali sono i veri metodi di contrabbando degli HFC da parte di queste organizzazioni criminali. Quindi, in primis, le importazioni fuori quota, quindi gas che vengono importati da società che non detengono quote all'interno dell'Unione Europea e non potrebbero importare gas. Secondo, aziende che importano HFC però in misura superiore al loro limite di quote. Questo è reso possibile da una registrazione carente e insufficiente a livello europeo e da controlli alle dogane che possono essere sicuramente migliorati. In secondo luogo, dichiarazioni di tipo erroneo, quindi prodotti che attraversano le frontiere europee senza essere dichiarati alla dogana o con delle etichette degli imballaggi errati o anche con livelli di purezza che non vengono considerati sicuri per quanto riguarda gli standard industriali dei prodotti vergini che vengono commercializzati in modo legale dalle aziende produttrici. Terzo, contrabbando di transito. Questo è uno dei fattori forse più rilevanti in quanto gli HFC transitano in Europa per poi in realtà essere riesportati, vengono dichiarati come riesportati in altri paesi al di fuori dell'Europa, ma in realtà vengono poi venduti in Europa senza rispettare i limiti che vengono imposti. Quindi appena entrano in territorio europeo invece di essere riesportati iniziano a circolare sul territorio europeo e se ne perdono le tracce. E quarto, la contraffazione, quindi la vendita di HFC con un nome commerciale contraffatto. Vediamo invece come operano le dogane. Allora, le dogane ovviamente sono il filtro primario e svolgono un lavoro preziosissimo per contrastare gli HFC illegali. Purtroppo al giorno d'oggi non sempre sono in grado di svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi per la mancanza di strumenti facilmente consultabili in tempo reale, quindi per controllare se effettivamente i carichi che vengono importati, che entrano in Europa, siano legittimi o meno. Recentemente però abbiamo visto come gli sforzi profusi dalle dogane si siano intensificati moltissimo e come tutti voi in genere penso avviate letto anche su giornali, ci sono stati degli articoli relativi a importantissimi sequestri che sono avvenuti anche sul nostro territorio nazionale. Per contrastare quindi questo mercato nero è fondamentale collaborare a tutti i livelli della filiera, quindi a tutti i livelli degli attori della catena del valore, cercando il più possibile di segnalare eventuali transazioni sospette per cercare di ripristinare la legalità. Come dicevamo, i controlli e le sanzioni all'interno dell'Unione Europea sono stati rafforzati in diversi stati membri, soprattutto grazie a questa maggiore consapevolezza del problema dell'importazione di HFC legali. Tra queste azioni possiamo segnalare alcune di rilevanza internazionale come l'introduzione in Germania del Chemical Act che permette di risalire in modo più semplice alle autorità loganali e alle aziende che comprano i gas, risalire alla filiera, quindi l'origine degli HFC che vengono commercializzati all'interno di questo paese per vedere se sono stati importati legalmente utilizzando il sistema delle quote. Inoltre, per esempio, in Italia sono state aumentate le sanzioni fino a 100.000 euro per l'importazione di gas HFC legali e come abbiamo già anticipato ci sono stati numerosi sequestri con quantità significative in svariati paesi europei. L'ultimo e più recente è quello che ha portato a circa un valore stimato di 10 milioni di euro con più di 2.000 cilindri e bombole sequestrate e in un'operazione insieme all'Europol e a Olaf dove hanno collaborato circa 16 paesi europei e ha portato alla fine a 7 arresti e a 28 denunce penali. In totale, questa operazione ha effettuato 1682 ispezioni, quindi come vediamo il lavoro coordinato di questa azione è servito adesso nell'ultimo mese di settembre per un valore stimato di un totale di 10 milioni di euro. ovviamente tutto ciò è insufficiente, quindi FCTC auspica che ci sia un severo e ulteriore in asperimento dei controlli all'interno dell'Unione Europea da condurre in maniera sicuramente armonizzata all'interno dei confini dell'Europa. Quindi il nostro suggerimento per cercare di sconfiggere definitivamente questo fenomeno è ad esempio quello di vietare non solo il possesso ma ad esempio la vendita delle bombole monouso che nella stragrande maggior parte dei casi sono collegate al traffico illegale di HFC. Inoltre, come dicevamo prima, applicare sanzioni molto più elevate che siano quindi un deterrente davvero forte per queste pratiche illegali e illecite e abilitare dei sistemi di tracciabilità di utilizzo più semplice per le forze dell'ordine e le autorità doganali e infine dotare le autorità di sistemi di controllo più efficaci. Quindi recentemente, per darvi un'idea delle dimensioni del fenomeno del mercato nero, FCTC ha condotto una ricerca con un gruppo qualificato di 50 operatori del settore e sono emersi dati davvero preoccupanti in quanto le dimensioni del mercato nero secondo questa ricerca sono rimaste le stesse o addirittura sono aumentate negli ultimi mesi e due membri su cinque hanno confermato di vedersi offrire HFC importati illegalmente almeno una volta al mese. Quindi, come consiglio da parte di FCTC a tutti gli attori della catena del valore, come si può riconoscere un HFC illegale? Allora, innanzitutto bisogna effettuare dei semplici controlli, quindi verificare il nome del produttore, verificare la presenza del timbro con approvazione TPED che è entrata in vigore a partire da giugno 2010 all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili, verificare la presenza dello standard EN 13.322-1 che è relativo ai cilindri saldati che contengono per il trasporto di gas refrigerante e infine la presenza delle schede di sicurezza relative al refrigerante che si sta importando. Inoltre, è sicuramente fondamentale seguire il proprio istinto, quindi se vediamo che un'offerta è sospetta perché magari il prezzo è decisamente allettante rispetto ai normali livelli di mercato, probabilmente è un'offerta di quel legale. Consigliamo sicuramente quindi di acquistare solamente da fonti affidabili e se non siamo sicuri bisogna effettuare ulteriori ricerche e sicuramente non bisogna accettare offerte con mezzi di pagamento non tracciabili. FCTC per cercare di contrastare il commercio degli HFC legali ha messo a disposizione una action line o integrity line che permette a chiunque di segnalare eventuali offerte di HFC sospette utilizzando un modulo web molto semplice. Vi potete collegare al link che vedete nella slide. La possibilità di segnalare viene offerta in italiano e in altre lingue perché è indirizzata a tutto il mercato europeo e in seguito a queste segnalazioni potremo far partire delle segnalazioni e indagare ulteriormente inoltrando poi successivamente un rapporto alle autorità competenti. Inoltre se volete richiedete anonimato questo verrà garantito e protetto. infine come FCTC vi invitiamo e avete visto che il Centro Studi Galileo è già uno dei nostri sottoscrittori all'impegno pubblico di dire no agli HFC illegali. È una campagna di sensibilizzazione con cui FCTC invita tutte le parti della catena del valore quindi dai produttori fino agli utenti finali a dire no ai refrigeranti illegali quindi per fare la propria parte ed individuare e segnalare i prodotti illegali quando li acquistano, li utilizzano o li vendono. Siamo convinti che il commercio illegale di HFC possa essere fermato solamente se tutta l'intera catena del valore lavora insieme in modo coordinato quindi con l'obiettivo di creare una discussione sul tema all'interno della value chain. Chi sottoscrive questo impegno pubblico riceverà informazioni eh dettagliate su ciò che può fare per fermare il commercio illegale oltre a una serie di asset che possono essere poi condivisi sui social media eh o con direttamente con i propri clienti e partner per segnalare questa presa di posizione. E il link per aderire all'iniziativa è quello che vedete all'interno della slide e ad oggi sono circa trecentocinquanta le organizzazioni che come Centro Studi Galileo o gli individui hanno aderito a questi impegni e vediamo che nuove adesioni continuano ad arrivare giorno per giorno. Eh vi ringrazio eh per la vostra attenzione e lascio adesso spazio alle vostre domande. Grazie. Perfetto Ernesto ti ringraziamo come sempre della della presentazione. Eh più che da una domanda partirei dal commento che ci è arrivato da Alessandro che eh azzeccando molto il punto di quello che si è detto ci dice è oltremmodo importante a livello di social network che gli amministratori dei veri gruppi presenti su Facebook facciano costante e puntuale informazione sui rischi connessi all'acquisto di refrigeranti illegali. Noto con dispiacere che molti membri dei gruppi presenti sui social hanno un livello molto scarso di consapevolezza in merito all'incauto acquisto che spesso tant'incauto non è avendo alcuni frigoristi piena consapevolezza della fonte illegale del gas piccola provocazione riconosco che Centro Studi Galileo si contraddistingue in quest'opera informativa. Abbiamo in effetti alcuni gruppi con i quali collaboriamo un pochettino di più i cui amministratori anche negli ultimi giorni nel loro piccolo le segnalazioni ce le hanno fatte eh ci è andato una mano a condividere il fatto che abbiamo fatto questo intervento che è già un punto di di partenza sicuramente sfrutteremo anche noi i nostri canali per approfondire questo eh questo tipo di discorso però diciamo che forse manca un pochettino di consapevolezza anche da parte dei tecnici di quelli che sono eh i rischi possibili quando si parla di eh di refrigeranti legali. Ah sì sicuramente come dicevo all'inizio della presentazione ehm i rischi connessi sono anche quelli legati alla sicurezza perché effettivamente non si sa che cosa si sta comprando e quindi non si sa che cosa eh ci sia all'interno di questi cilindri eh comprati in modo illegale. Quindi a parte eh il tema economico quindi il prezzo magari allettante si possono creare dei rischi sulla sicurezza perché poi questo eh gas refrigerante viene installato all'interno di sistemi ad esempio per il condizionamento eh delle case o eh anche per sistemi che sono all'interno di spazi pubblici quindi mh sicuramente il tema della sicurezza è veramente fondamentale quindi vi chiediamo davvero di eh prestare molta attenzione quando vedete questo tipo di offerte su inter prima di decidere se comprare o no questo tipo di di refrigeranti. È sicuramente un aspetto veramente importante che voglio sottolineare. Grazie Alberto. Anche perché come dicevo prima non è sempre detto che il refrigerante poi eh vero falso o contraffatto o non contraffatto arrivi. Tante volte nemmeno arrivano le bombole per cui eh questo è è proprio una truffa bella e buona. Ehm ne approfitto ci sono arrivate un paio di domande. Forse questa si ricollega maggiormente eh ci scrive Alessandro e ci chiede sempre sempre sul tema della formazione gli agenti delle dogane sono debitamente formati quando si tratta di F gas o si potrebbe fare di più? Allora eh sicuramente come dicevo nella presentazione si può fare di più. Eh ci sono delle attività in atto eh all'interno dell'Unione Europea per cercare di formare adeguatamente gli agenti delle dogane quindi migliorare la consapevolezza degli agenti quando ricevono eh queste tipologie di rifrigeranti in contenitori per esempio come quelli non ricaricabili quindi all'interno della formazione sicuramente è fondamentale operare. Dall'altra parte eh ci auspichiamo che eh l'Unione Europea intervenga un quanto prima per cercare di armonizzare ad esempio con il sistema della single window quindi di avere degli strumenti di semplice consultazione da parte degli agenti del dogane per eh controllare se effettivamente l'azienda, la società che sta importando il gas detenga quote o quanto di queste quote abbia già utilizzato nell'importazione di eh altri carichi di refrigeranti quindi sicuramente si sta lavorando anche in questo senso ovviamente si può fare di più ma abbiamo visto che eh gli ultimi sequestri specialmente nel duemilaventi duemilaventuno eh sono stati effettuati anche grazie a un'aumentata consapevolezza da parte dei mezzi eh utilizzati dalle agenzie delle dogane dei singoli stati. Ok leggo questo punto la domanda del mio omonimo Alberto le nuove licenze di esportazione eh degli HFC dalla Cina possono limitare i traffici illegali? Eh ottima domanda sicuramente questo è uno dei temi eh che si stanno valutando in quanto eh l'esportazione da parte della Cina con queste nuove licenze è uno dei fattori che può sicuramente eh far diminuire il commercio di di gas illegali provenienti dalla Cina quindi sicuramente è stato colto l'obiettivo con questa domanda e eh ci auspichiamo che con questa nuova serie di norme eh direttamente alla fonte quindi dalla Cina eh si possa mh notare soprattutto a partire dall'anno prossimo con una diminuzione di traffici illegali quindi ottima domanda. Perfetto. Ci è arrivata ancora qualche domanda ma ce la giochiamo poi per il per il dibattito finale. Ringrazio intanto Ernesto per eh per la sua presentazione per la disponibilità che ci ha dato. Ci vediamo tra qualche minuto. Passo a questo punto il ruolo di relatore a eh Marco Mancini di eh Legambiente. Lo vedo. Eccoci qua. Perfetto. Ringrazio Ernesto. Ci sentiamo dopo. Grazie. Salve Alberto. Grazie Marco. Buongiorno a tutti. Ok. Avvio la condivisione. Sì. Eccoci qua. Penso che vediate il mio schermo. Perfettamente. Ok. Lo mettiamo in presentazione e ci siamo. Ok. A te la parola Marco. Grazie Alberto. Eh grazie Alberto. Grazie al certo studio di Galileo. Grazie all'ingegner Buoni per averci voluto in questo webinar in cui eh portiamo un po' la visione della nostra associazione rispetto a un tema così eh importante anche secondo le cambiante soprattutto in un'ottica di di decarbonizzazione e lotto ovviamente all'emissione o al cambiamento climatico. La presentazione appunto riprende un po' una nostra campagna fatta qualche anno fa, rinfischiamoci senza riscaldare il pianeta alla luce ovviamente delle nuove eh dell'evoluzione diciamo di di quello che è successo negli ultimi anni. Eh due parole sul legambiente immagino insomma conosciate la nostra associazione, una delle associazioni ambientaliste più conosciute in Italia, facciamo campagne, avvertenze, progetti, comunicazione, insomma eh ci occupiamo un po' di tutto quella che è la sfera eh ambientale eh ovviamente focus degli ultimi anni è eh provare a fermare un po' no la crisi climatica prima che sia troppo tardi quindi diciamo è uno dei core delle nostre eh azioni degli ultimi dell'ultimo periodo. Tutto questo lo facciamo sempre in un'ottica di ambientalismo scientifico che significa eh mettere ovviamente la scienza al servizio di quello che è lo sviluppo della eh della società e quindi tutte le le cose che proclamiamo che portiamo eh all'attenzione le portiamo con proposte che abbiano delle basi scientifiche solide appoggiate dal nostro ufficio ma da un comitato scientifico che ci aiuta nel nella relazione di queste. Eh ovviamente cercando di conoscere lo sviluppo eh diciamo della della società eh con un occhio sempre appunto all'ambiente e a un economia sana eh ai diritti eh e così via. Eh il tema di oggi qualcuno ovviamente parlando col centro spirituale non posso che non essere gli HFC alcune cose sono state già dette una cosa che non è stata detta è che mh questi questi prodotti che in qualche modo sono stati l'evoluzione di altri prodotti eh inizialmente per fare eh freddo per fare questa attività c'erano CFC poi gli HCFC che in qualche modo sono stati bannati e non utilizzati più perché portavano problemi rispetto al buco dell'ozono eh dopodiché sono uscite queste nuove miscele innovative che sembravano aver risolto il problema ma che poi nel tempo si sono rilevate appunto uno dei gas serra più potente e duraturo eh dovuto alle attività umane di cui siamo circondati e la sulla loro eh come dire eh persistenza in atmosfera ovviamente li rende eh così pericolosi e sui quali bisogna stare molto attenti e trovare appunto delle soluzioni eh come sono state raccontate anche eh precedentemente che lì in qualche modo vengano sostituiti a quello che il nuovo regolamento che il vecchio regolamento e adesso col nuovo regolamento cercheremo di fare eh affinché insomma si vada verso anche una sensibilità una sostenibilità maggiore del settore come lega ambiente ce ne siamo occupati da sempre ce ne siamo da sempre insomma ce ne siamo occupati un po' prima che iniziasse che venisse come dire eh ratificato il primo regolamento quello del 2014 il 517 facendo un po' non sarà dell'arte quindi eh sviluppando il primo eh il primo dossier eh nel quale facciamo anche un po' una un ragionamento rispetto allo stock rispetto a quello che eh a quello che stava a quello che c'era insomma nel nel settore abbiamo fatto dei convegni abbiamo fatto appunto come vedete la campagna che vi citavo poco prima eh col patrocinio del ministro dell'ambiente abbiamo fatto dei convegni e eh quindi stiamo un po' eh nel nel settore cercando di collaborare con tutti i maggiori attori per ovviamente nell'obiettivo comune della sostenibilità ovviamente da parte nostra eh in questo in questo settore così strategico e ci lavoriamo ultimamente con due progetti capitanati da eh EIA dall'Environmental Investigation Agency e da ECOS eh ovviamente facciamo un quadro rispetto alle emissioni perché è quello un po' che eh diciamo mette mette in oh scusate sono andato un po' avanti eh appunto le emissioni di HFC rappresentano il 4% delle emissioni nazionali eh emissioni che però tendono tendono a crescere eh seppur secondo i dati Ispra dal 90 al 2018 le emissioni di CO2 eh totale di gas sera in generale sono dei minimi del 17% eh gli HFC sono quelli che invece mantengono delle emissioni molto elevate in Italia ne vengono utilizzati in quantità veramente eh importanti un oltre un altro dato interessante è che eh se le temperature e l'umidità diciamo sempre più elevate e che aumentano in qualche modo la domanda di apparecchi di raffrescamento dell'Unione Europea si prevede che nel 2050 eh ci si avrà un incremento da 1,6 a 5,6 miliardi di eh apparecchiature di condizionamento che ovviamente eh portano eh il all'attenzione e al centro diciamo il tema di di come fare in modo sostenibile condizionamento e rifrigerazione. eh gli FGAS in Italia sempre nel 2020 dati Ispra eh ci dicono che eh cubano il 4,4 delle emissioni ovviamente non sono dati eh da sottovalutare eh poiché anche se le perdite eh diciamo degli degli impianti di refrigerazione e di condizionamento eh possono essere piccole o possono essere magari trascurabili eh abbiamo capito che eh il GWP dei gas contenuti in queste apparecchiature è eh particolarmente elevato e quindi come dire anche piccole emissioni comportano dei danni eh a livello di eh cambiamento climatico molto elevati e molto evidenti. Anche a livello europeo diciamo che l'Italia non è eh tra le prime della classe o meglio è tra le prime della classe ma tra i cattivi eh infatti come vedete eh questo sono dati del del dell'Agenzia Europea per per l'ambiente rispetto alla refrigerazione commerciale le emissioni di HFC eh in quel settore sono il 26 per cento in Italia eh come sono il il 17 per cento quelle diciamo legate alla refrigerazione al condizionamento in via generale. Eh nel nell'aria condizionata diciamo mobile l'Italia cuba l'otto per cento mentre nel eh anche non vanno considerate neanche le emissioni rispetto alle eh alle schiume o al eh al appunto alla fire protection insomma al eh all'utilizzo di questi gas come ehm come estinguenti diciamo. Quindi abbiamo capito che le emissioni sono tra le più importanti in Italia in questo settore abbiamo capito anche che il settore della refrigerazione e condizionamento è uno dei settori strategici perché appunto eh la conservazione del cibo, delle medicine, soprattutto eh a seguito di quello della pandemia in cui siamo ancora eh immersi. Nei processi industriali, nella ricerca, nel comfort, nei trasporti, insomma eh questo settore è un settore strategico, è un settore in espansione ragionavamo prima di iniziare il webinar anche con l'ingegner Buoni eh in cui bisogna eh fare le cose, farle bene e farle appunto cercando di spostarsi verso l'utilizzo di gas eh naturali o di gas comunque che creino eh che abbiano un impatto ovviamente eh molto minore. Eh tra le criticità eh possiamo dire che eh il il tema FGAS è all'interno del Ministero dello Sviluppo, scusate, del Ministero della Transizione Ecologica a metà tra due direzioni e quindi diventa complesso andare a spiegare, andare a lavorare eh su su questo in questo settore poiché le apparecchiature che contengono le emissioni vengono che contengono l'HFC o le emissioni eh che che ne conseguono eh parlano di due direzioni del Ministero diverse, parlano delle della direzione clima e energia che dovrà fare le sue scelte e le sue azioni rispetto anche al nuovo regolamento e la direzione dell'economia circolare nel momento in cui questi gas o le apparecchiature che li contengono diventano rifiuti o vadano al smaltimento. Eh ovviamente ovviamente bisogna stare attenti a quello e noi stiamo attenti e stiamo in prima linea con le associazioni di cui parlavo prima ma anche insieme appunto agli attori del del settore eh come al centro studi eh rispetto all'evoluzione del nuovo regolamento abbiamo avuto l'esperienza del del vecchio vediamo come possiamo migliorare e come possiamo integrare il nuovo affinché eh il settore vada verso questa sostenibilità tanta cognata eh c'è la possibilità della strategia per l'economia circolare del PNRR per fare degli investimenti che vadano verso eh verso un settore eh che che sia più attento eh alla al green diciamo così eh c'è da incentivare lo sviluppo e l'innovazione e la diffusione dei gas naturali verso sicuramente le nuove miscele e verso eh i i gli HFC diciamo il nostro senso è un senso comunque di precauzione rispetto a quelli che sono gli HFO che sono delle miscele nuove delle miscele che sicuramente hanno degli effetti eh pari a zero o comunque trascurabili allo stesso eh dei dei gas naturali ma dei cui ancora non è eh conosciuta completamente eh l'impatto ambientale a livello eh ecologico a livello di chimica dell'atmosfera eh la bibliografia scientifica è ancora poca e quindi diciamo quello che diciamo è eh utilizziamo i gas naturali su cui abbiamo delle conoscenze più più fondate più solide l'ammoniaca la CO2 ormai diciamo non ci sono problemi rispetto a eh l'utilizzo di queste tecnologie rispetto sia all'efficientamento energetico sia nella possibilità insomma di eh di costruire impianti con questa tipologia di gas eh siamo un po' più caudi nell'utilizzo degli HFO di cui appunto ancora non ne siamo completamente non ne conosciamo completamente eh l'impatto eh un'altra difficoltà che rispondiamo è sicuramente la comunicazione eh dei temi legati agli FGAS poiché eh nel 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 dominio pubblico diciamo questi gas non si non si conoscono non se ne capisce eh la la problematicità eh vengono associati anche a livello professionale magari a figure che non sono eh completamente competenti nell'utilizzo e nel trattamento di questi gas eh prima sempre ragionando con l'ingegner buoni dicevamo eh la la figura del frigorista è una figura in crescita è una figura nuova che eh in qualche modo eh lavora su un settore così strategico e così importante eh ma viene spesso magari nella quotidianità associata all'idraulico il 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 cittadino comune eh non capisce che il condizionatore che abbiamo a casa ad esempio eh o eh potenzialmente insomma eh ha delle problematiche che devono essere trattate devono essere gestite sicuramente la formazione dei tecnici eh importantissimi il ruolo di di Centro Studi Galileo rispetto alla formazione rispetto al progetto di Alternative sulle nuove eh sull'utilizzo insomma delle dei gas naturali eh sarebbe importante ovviamente un patentino non soltanto per i gas appunto per gli HFC eh che che c'è adesso ma anche eh rispetto all'obbligatorietà di eh nell'utilizzo insomma la formazione obbligatoria per l'utilizzo dei dei sui gas naturali eh ovviamente la sostenibilità del settore mi sembra che l'ho ripetuto più volte e sicuramente anche noi rispondiamo un una necessità di di contrastare le legalità ormai da un paio d'anni eh anche nel rapporto che le cambiante realizza eh rapportato Eco Mafia in cui andiamo a eh a dare i numeri eh un po' di quelle che sono le legalità ambientali abbiamo dedicato una parte proprio al ehm al commercio illegale di HFC eh con dati che vengono dalle dal dall'autorità insomma delle dogane e come vedete insomma negli anni c'è un traffico ingente soprattutto per traffici che vengono dalla Turchia eh che entrano diciamo in Italia dalla Turchia eh provenenti dalla dalla Cina eh che portano ovviamente problematiche notevoli poi nella gestione o dei rifiuti o dei gas per i propri diciamo nel eh nel commercio appunto illegale di cui è stato eh raccontato prima da da FCTC. Ehm come facciamo noi a parlare di questi temi? Lo facciamo attraverso le campagne che l'Ecambiente ovviamente utilizza per diffondere conoscenza, sensibilizzazione a questo tema. Ehm campagne che eh l'Ecoforum in particolare eh racconta quello che è eh il il settore dell'economia circolare eh a tutto tondo questa è la dell'edizione eh del duemilaventone in cui semplificazione, innovazione e partecipazione eh un piano nazionale per l'economia circolare raccontavamo appunto eh i vantaggi e continuiamo a raccontare i vantaggi eh dell'economia circolare e come portarla eh a compimento eh in altre attività come il forum qual è l'energia eh da poco conclusosi in cui abbiamo dedicato anche lì una sessione proprio eh al al settore della decarbonizzazione, della refrigerazione, specialmente quella commerciale eh in cui un forum sempre nel quale parlare di energia e di eh di temi ad essa legati. Eh un'altra campagna sulla quale vorremmo investire è quella del Civico 5.0 eh pensata per sensibilizzare i propri cittadini, gli amministratori e le amministrazioni e i costruttori e i costruttori progettisti verso proprio i condomini, quindi verso proprio i cittadini eh per per ripensare un po' anche il modo di vivere eh eh sia sia individualmente che come dire collettivamente. Arriviamo alle proposte che Legambiente eh ha racchiuso in un dossier che abbiamo presentato proprio nel forum qual è l'energia e che potete trovare eh sul sito del forum forum qual è l'energia punto it se non ricordo male eh in cui appunto abbiamo fatto un po' un nuovo quadro di quella che è la situazione eh rispetto al al mondo degli FGAS. Eh quello che ci proponiamo come proposte e sulle quali insomma ci impegniamo anche a lavorare eh come associazione eh con i nostri mezzi e con i nostri metodi è sicuramente quello di attuare delle campagne di informazione e sensibilizzazione sia tra gli utilizzatori sia tra i cittadini eh per comprendere appunto l'elevato impatto ambientale che queste sostanze appunto eh causano e le corrette modalità di gestione. Ridurre attraverso sistemi di incentivazione e agevolazione i costi di gestione del refrigerante a fine vita scoraggiando scusate eh o l'adozione a prassi ehm che ovviamente queste eh i costi di gestione diciamo scoraggiano come dire l'adozione a prassi corrette di recupero e smaltimento. incentivare la formazione obbligatoria dei tecnici come dicevamo anche prima non solo verso i gas sottoposti a patentino ma anche verso eh i gas naturali eh per conoscere per diffondere la consapevolezza maggiore del problema legato alle emissioni e del cambiamento legato legato il cambiamento climatico legato a questo settore. Potenziare il sistema dei controlli e delle sanzioni a partire come si diceva appunto dalle forze dell'ordine delle dogane come le cambiante ci impegneremo a ehm a prendere rapporti come abbiamo con tutte le eh istituzioni eh deputate con le forze dell'ordine insomma deputate al controllo con le quali collaboriamo per l'assessore del rapporto ecomafia eh per diciamo potenziare un po' anche eh l'attenzione e l'attività di contrasto all'illegalità eh rispetto a questo eh rispetto a questo volevo anche dirvi che eh insieme ad EIA eh e variamente investigation agency abbia che ha realizzato da poco a marzo dello scorso di quest'anno se non ricordo male un rapporto proprio sul commercio illegale di eh di Fgas facendo anche loro delle indagini eh molto accurate per capire quali sono i flussi da dove vengono e come funziona un po' tutto il il mondo nel mercato illegale eh ne abbiamo dato anche comunicazione eh insieme al centro studi eh con un posto su industria e formazione c'è la possibilità eh se volete di avere il report in italiano poiché ne abbiamo curato direttamente la traduzione per rendere insomma fruibile e portare insomma la conoscenza di tutti il tema accompagnare ovviamente la revisione del nuovo regolamento a livello istituzionale quindi sia a livello di commissione sia a livello più istituzionale di Camera Senato e Ministero della Transizione Ecologica attraverso l'adozione di obiettivi e standard che appunto che permettano la la decurbanizzazione del settore incentivare la ricerca scientifica tecnologica alla comunicazione rispetto ai vantaggi e ridotto impatto ambientale dell'utilizzo dei gas naturali eh favorendone una maggiore diffusione facendo capire che anche qui eh utilizzando questi gas che da prima e da dall'inizio della dell'utilizzo della catena del freddo erano i gas maggiormente utilizzati eh anche qui l'innovazione è andata avanti eh si possono ancora utilizzare si possono utilizzare bene e si possono utilizzare in tutti i settori eh più o meno istituire un un tavolo permanente per sulla sostenibilità del settore l'abbiamo presentato eh a refrigera e sul quale vogliamo in qualche modo ancora lavorare proprio per la formazione appunto dei naturali con con l'efficienza eh le eccellenze di di questo settore che sono nel nostro paese e che vengono esportate in tutto il mondo ma che hanno difficoltà ad attecchire diciamo direttamente eh in Italia è un paradosso ma è così eh incentivare appunto la ricerca scientifica rispetto agli impatti delle nuove miscele chimiche in particolare gli HFO ma eh quello che verrà perché diciamo che poi anche qui l'innovazione va sempre avanti eh per scongiurare appunto eh futuri impatti ambientali sulla salute dei cittadini sia a breve che a lungo termine eh una particolare attenzione eh poniamo anche rispetto al Green Public Procurement quindi agli acquisti verdi nella pubblica amministrazione eh l'Egambiente lavora da tempo con un osservatorio rispetto agli appalti verdi eh abbiamo visto che eh nei prossimi anni andranno a revisione due almeno due dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici che eh prendono in considerazione la refrigerazione o il condizionamento e nei quali eh vengono come dire eh poste all'attenzione eh soltanto come dire temi rispetto all'efficienza energetica e meno rispetto a eh alla tipologia di gas secondo noi invece è utile che nella loro revisione e quindi su questo faremo in qualche modo la nostra azione come come l'Egambiente come osservatore appalti verdi come le mie attività rispetto al tema eh come dire del dei gas flurrati è eh andare in qualche modo a porre l'attenzione anche sulle miscele e sulle tipologie di gas che vengono utilizzate eh per la refrigerazione e il condizionamento. Non ultimo eh di fondamentale importanza è sicuramente la formazione di un consorzio sul motore sul modello di quelli che già sono in essere in Italia per il trattamento dei rai o degli imballaggi per il recupero, la raccolta e il recupero e il trattamento degli eff gas quindi per agevolare il conferimento negli negli impianti di rigenerazione e eh dare il giusto supporto agli installatori e ai manutentori eh evitandone ovviamente la dispersione in atmosfera con tutte le conseguenze che ne derivano proprio per incentivare e eh andare a sopperire a a questo problema che è uno dei problemi eh forse principali. Eh vi ringrazio questi sono i miei contatti e niente a disposizione insomma ovviamente per le domande. Ottimo Marco ti ringraziamo tantissimo per per l'intervento e per per la disponibilità. Abbiamo qualche domanda che ci è arrivata dal pubblico che ovviamente sicuramente molto eh molto interessato a questo tipo di di argomenti che sono argomenti che spesso vengono eh trattati forse meno di quello che sarebbe di quello che sarebbe importante. Eh in particolar modo ci chiedono in riferimento quello che hai detto prima Alessandro ci scrive i dati di eh Ispra si riferiscono alle emissioni perdita di effe gas in ambiente oppure al prodotto immesso in eh immesso in commercio? No 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 le emissioni le emissioni in atmosfera. Emissioni in atmosfera perfetto. Ci sono sono dati pubblici insomma l'ultimo il penultimo rapporto insomma di Ispra eh rispetto al tema. Perfetto ti ringrazio. Ti leggo a questo punto la domanda che ci è arrivata da Giulio. Giulio ci chiede eh nella presentazione si è parlato dell'importanza di estendere la formazione obbligatoria anche ad altri refrigeranti. Ad oggi i tecnici sono già pronti a usare le alternative o bisogna lavorare ancora in questa direzione? Beh eh insomma dai confronti fatti eh mi sembra che ci sia l'esigenza di continuare a lavorare sulla formazione eh sia nei nuovi tecnici sia nel eh sia appunto rispetto al patentino quindi rispetto all'utilizzo ancora degli HFC perché non è che da oggi a domani finiscono abbiamo visto che il face down ci accompagnerà ancora per tempo quindi ancora eh se non saranno gas eh utilizzati e bisogna sapere come utilizzarli e come trattarli. Eh sicuramente è importante eh secondo noi anche eh ma anche se mi sembra secondo Centro Studi Carileo eh rendere come dire obbligatorio o comunque insistere sulla formazione rispetto al alle alternative quindi il progetto di alternative alternative eh di formazione sui gas naturali quindi sulla CO2 sull'ammoniaca sugli leggermente eh infiammabili come gli idrocarburi eh affinché i tecnici siano preparati a tutto tondo a utilizzare sia le vecchie miscele che stanno di come dire andando a scomparire e ce ne saranno le nuove gli HFO anche rientrano tra le tra le alternative al momento eh sia verso i naturali che saranno magari i gas che in qualche modo eh speriamo prendano sempre di più piede o riprendano piede eh nel nel loro come dire utilizzo. Questa è una cosa sulla quale anche noi eh come diceva Marco insistiamo molto quando parliamo noi parliamo spesso di rivoluzione verde quando si parla di refrigeranti ma una rivoluzione se i tecnici non sono pronti e non conoscono abbastanza bene gli impianti non può essere fatta per cui per forza dobbiamo partire da questo. Leggo un'ultimissima domanda poi faccio partire un sondaggio che abbiamo realizzato per i nostri per i nostri tecnici e passerei poi quinti al dibattito eh al dibattito finale. La grande distribuzione quindi supermercati e centri fai da te. Questo ce lo scrive Diego. Informa nel modo corretto i clienti? È possibile che il pubblico non sia debitamente consapevole di cosa contengono gli elettromestici che acquista? Forse abbiamo parlato di questo prima anche con con Ernesto. Beh eh secondo me eh diciamo il diciamo nel grande il grande pubblico non è non è così informato anche dall'esperienza diciamo che come legambiente abbiamo di campagne di sensibilizzazione e comunicazione rispetto a a questo tema. Eh molto spesso si compra il condizionatore se ne se ne come dire ci se ne se ne preoccupa poco di quello che stiamo comprando e di cosa succederà poi nel momento in cui eh lo smaltiamo eh in un ultimamente diciamo abbiamo anche presentato eh insieme a a Socol siamo andati in Senato eh a presentare come dire un DDL che andrà verso una proposta quindi un disegno di legge per degli incentivi rispetto alla alla refrigerazione commerciale quindi alla sostituzione degli impianti eh grossi player della grande distribuzione già lo fanno insomma come sapete eh rispetto diciamo al mondo dei tecnici eh sia Conad che Coop sono già da tempo attive rispetto alla loro eh rinnovare come dire gli impianti o nelle nelle nuove eh catene e nei nuovi supermercati diciamo utilizzare sicuramente delle tecnologie nuove eh rispetto a quelli vecchi diciamo c'è necessità come dire di incentivare un un retrofit con eh con gli impianti più innovativi e con ovviamente i gas naturali eh però ecco la comunicazione poi all'interno di di anche di di Coop o di altri di questi grossi enti magari non è eh non è del tutto chiaro comunque non viene non viene capito non viene percepita eh sicuramente c'è da fare ancora di più c'è da 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 rendere il tema molto più più semplice più eh se volete anche banale no per per cercare di di farlo arrivare eh dal dal super tecnico dal super ingegnere che capisce tutto all'ultima alla signora che magari non sa come fare chiama la persona che la deve aiutare magari a smaltire il condizionatore e si trova davanti il tecnico che può essere formato può essere non formato può essere che è illegale tra virgolette e quindi non eh non non farà le cose come come debbono essere fatte ottimo io ringrazio Marco chiamo allora ancora con noi per il dibattito finale eh Ernesto secondo voi una tassa sugli HFC ad alto GVOP può fare bene a spingere il mercato verso soluzioni più eco compatibili più eh amiche dell'ambiente so che in Spagna già esiste questa tassa però non so bene l'effetto che ha avuto è stato positivo o meno eh direi che questa domanda è stata per entrambi per il dibattito per entrambi chi vuoi parlare? Se vuoi intervengo prima io prego prego allora eh sì qui in Spagna è stata introdotta già dal duemila quindici e inizialmente eh l'introduzione della tassa ha favorito la transizione a refrigeranti con un livello di GWP più basso però dall'altra parte ha anche favorito l'introduzione sul mercato di refrigeranti illegali eh ad esempio gli HFC quindi il contraltare è stato questo e ovviamente tutti i benefici che ci si aspettava all'introduzione della tassa sono stati diciamo in parte compensati in modo negativo dal dalla massiccia presenza di gas illegali all'interno del mercato spagnolo quindi tu Ernesto non sai per la tassa sugli HFC ad alto GWP? Eh sinceramente mh bisognerebbe parlare forse più a 360 gradi quindi non su qualcosa relativo a proprio al GWP ma al consumo energetico del sistema in sé quindi certo e c'è anche una domanda su questo argomento adesso vi faccio eh Marco Mancini su questo argomento della tassa sugli HFC cosa ne pensi? Sì secondo me diciamo ovviamente è da valutare da da studiare però potrebbe essere interessante in un sistema anche di responsabilità del produttore nel senso nel momento in cui io utilizzo ehm cioè un metodo di tassazione che è tassi i prodotti nel momento che io pago il condizionatore pago anche lo smaltimento e se lo quel condizionatore ad esempio ha dei che contiene degli HFC ad alto GWP ovviamente il costo poi di smaltimento di quella roba lì deve essere commisurato eh al appunto al al allo smaltimento eh potrebbe essere un sistema che aiuta anche nella formazione di un consorzio che poi possa gestire come diciamo nelle nostre proposte la eh il momento di transizione gli HFC ancora saranno utilizzati tassandoli c'è un consorzio che può in qualche modo gestirli e rigenerarli quindi per metterne ancora l'utilizzo per un certo periodo fino a che non si trova l'alternativa utile a eh a come dire a sostituirli completamente quindi potrebbe essere eh potrebbe essere una soluzione benissimo è aperto un altro argomento di un'altra domanda importante è quello della eh recupero del ciclo del refrigerante ad esempio c'era una domanda ancora sul traffico illegale fatta da ehm Ezio Montessoro che mi dice che un nuovo fronte dell'illegalità è quella dei prodotti considerati riciclati ma in realtà poi sono dei refrigeranti vergini eh nella loro nella loro semplicità nel senso che alla fine vengono dati come prodotti riciclati ma invece sono dei refrigeranti vergini hai sentito parlare di questa illegalità di questo metodo metodo di immettere il mercato io direttamente no la prima volta che lo sento e mi sembra una cosa interessante a cui stare attenti sicuramente sia un fenomeno a cui bisogna prestare attenzione ed è per questo che noi come FCTC invitiamo gli attori della catena del valore a comprare refrigeranti solo ad aziende certificate e quindi solo quando siamo sicuri che questa società questa azienda sia un'azienda seria presente sul mercato. Perfetto. Adesso ritorno invece all'argomento importante che ha posto Vincenzo sull'efficienza energetica. Volevo sapere vostro diciamo nostro parere riguardo eh l'importanza del rapporto da sostituire l'attuale refrigeranti con refrigeranti più basso GPP ma intravediamo pure lo spazio al consumo di energia elettrica quindi eh gestire eh l'efficienza e il teui delle apparecchiature valutare quindi l'impatto sia in termini CO2 estesa a tutta la vita utile delle apparecchiature non soltanto al solo refrigerante ma anche quindi all'energia complessiva. Cosa ne pensate voi di questa questo discorso? Di parlare non solo sempre del GPP ma anche dell'energia totale che però non ditemi se mi sbaglio è difficile calcolare l'energia totale di un impianto giusto? L'efficienza totale di un impianto. Eh sì Vincenzo sicuramente è una domanda interessantissima in quanto se focalizziamo l'attenzione solo sul GWP eh consideriamo quindi la parte delle emissioni dirette. In realtà eh come tutti sappiamo la parte eh preponderante delle emissioni in atmosfere di CO2 è legata direttamente alle emissioni indirette quindi al consumo energetico del proprio sistema. Ovviamente eh come FCTC abbiamo detto ci sono una vasta serie di refrigeranti di nuova generazione a bassissimo GWP come CO2, ammoniaca, miscela, HFO però bisogna valutare per ciascuna applicazione quale effettivamente sia l'alternativa eh che permetta il minor consumo possibile dal punto di vista energetico del sistema. Quindi non solo considerare il GWP che è importante ma la la parte più importante sicuramente è quella relativa ai consumi energetici. Quindi il concetto di TEUI è sicuramente fondamentale e ci auspichiamo che in futuro eh venga sempre più preso in considerazione perché è lì dove bisogna puntare per cercare di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Marco cosa ne pensi tu? Anche perché tra l'altro anche il protocollo dimontra i Kigali Amendments quindi a livello mondiale pone forse più ancora che la regolamentazione europea FGAS pone il discorso dell'efficienza energetica quindi cambiare refrigerante solo lì dove si è sicuro che l'efficienza energetica sia migliorata. Sì sicuramente è un tema diciamo lo stare attenti anche o comunque portare all'attenzione al tema dell'efficientamento energetico diciamo io non sono così tecnico non so cioè non ho dei dati eh come dire eh specifici per dire eh se eh può essere considerato solo il TEUI o soltanto il GWP eh credo che anche il GWP debba essere considerato non sui cento anni ma su tempi più brevi altrimenti e quindi ovviamente questo penalizza ulteriormente ancora gli HFC perché come sappiamo la regolamento adesso viene considerato un periodo di cento anni eh rispetto al all'impatto quindi al GWP e al la CO2 equivalente diciamo rispetto al gas su un tempo molto più lungo invece dovremmo considerarlo su un tempo più breve ehm e quello che diciamo dai nostri confronti con tecnici e addetti del settore eh sembrerebbe che oggi ad esempio noi facciamo questo discorso rispetto alla CO2 eh la CO2 le tecnologie che oggi sono in commercio sono tali per cui si riduce sicuramente l'impatto eh emissivo perché utilizziamo un gas che è il GWP1 e eh l'efficientamento energetico è ammortizzabile in poco tempo e quindi eh anche da quel punto di vista la CO2 è vincente eh è sicuramente un tema è sicuramente un tema su cui ancora lavorare ovviamente e investire. Sì non è facile calcolare appunto il TEUI di un impianto quello effettivamente non è qualcosa di semplice. Una domanda per entrambi. La fa Madi, Madi Sacande che è il presidente dell'associazione africana del freddo, un grande nostro amico, consulente, docente, ha detto tu di Gheleo. Qual è il meccanismo che permette di smaltire il gas recuperato senza maggiori costi? Secondo te Marco Mancini penso soprattutto perché sei tu Marco che hai posto questo problema. Il discorso di smaltire il refrigerante senza aumentare i costi perché attualmente è ancora abbastanza caro, so che però alcuni dei partecipanti hanno delle ottime eh offerte, degli ottimi prodotti per recuperare, rigenerare il refrigerante però ovviamente dobbiamo incentivarlo sempre di più. Certo, sicuramente quello che noi proponiamo, quello che noi proponiamo è proprio la costruzione di la costituzione di un consorzio come quello che c'è ad esempio per l'imballaggio come per le apparecchiature, i rifiuti da apparecchiature elettiche elettroniche che permette di creare un sistema virtuoso per cui c'è tutto l'interesse a recuperare il gas contenuto all'interno delle apparecchiature affinché poi possa essere rigenerato e riutilizzato in qualche maniera. Ovviamente se questa cosa è lasciata alla libera iniziativa dell'ultimo tecnico che fa i suoi magari pochi recuperi durante la sua attività lavorativa è ovviamente sconveniente e quindi creare questo sistema virtuoso per cui il conferimento, la raccolta, il conferimento siano sempre più semplici e ottimizzati sul territorio eh ne favorisce sicuramente l'abbassamento dei costi e la il favore dell'ambiente ovviamente perché ci sono meno emissioni come dire occulte eh meno dispersione anche di attrezzature eh magari ancora contenenti che contengono diciamo questi gas. Tu Ernesto hai qualcosa riguardo sul argomento? Ma eh sicuramente come ho detto in precedenza rivolgersi ad aziende qualificate che effettuano quindi queste operazioni di riciclaggio in modo legale e il nostro consiglio è quello quindi sempre di rivolgersi a canali di tipo legale. Sì ci sono poi diverse realtà insomma mi sembra in Italia che già lavorano in questo settore hanno delle strutture insomma che permettono la rigenerazione in modo efficiente dei gas che poi eh diciamo sono paritari al nuovo sono paritari ai vergini insomma quindi eh sono utilizzabili a tutti gli effetti in modo in modo anche sicuro però sicuramente appunto come diceva eh Ernesto affidarsi a degli operatori del settore qualificati e competenti. Bravo bravo ottimo. Siamo venti in ritardo ma è un argomento importantissimo quindi io andrei ancora con un commento che è importante che è quello di Marco Dall'Ombra che fa una proposta è un po' lunga ma poi magari la metto sulle sulla chat così la vedete tutti insieme. Comunque la proposta è di non chiamare naturali ma chiamarli ehm di chiamarli comunque a bassissimo gioco più più anche l'ammonia di idrocarburi perché comunque sono fatti anche industrialmente Marco Dall'Ombra è di Assoclima ehm l'ho scritta qua cosa ne pensate di utilizzare di definizione naturale per cui effettivamente cosa ne pensate comunque di prodotti naturalmente eh sono prodotti industriali comunque quindi sono prodotti. Potremmo utilizzare ovviamente un termine diverso attualmente viene usata naturale non so cosa pensa Ernesto e cosa ne pensa Marco di usare un termine diverso è una provocazione ma penso che sia anche corretto però la definizione che ho trovato importante per la definizione di naturale è che sono naturalmente eh disponibili in atmosfera in livello abbondante diciamo questo di solito è la definizione di naturale cioè che sono disponibili in maniera abbondante in atmosfera quindi qualsiasi apporto ulteriore non va ad incidere in maniera sensibile quanto è già disponibile in ambiente questo diciamo diciamo la più definizione di naturale però il nostro il nostro eh il nostro Marco Dall'Ombra appunto collega di Assoclima fa anche questa proposta eh sì sì prego Marco prego scusa sì come diceva Thomas in eh in chat chimicamente naturali mi sembra funzionale io eviterei di di complicare nel senso che alla fine è una definizione che serve per per capire e in qualche modo e per anche divulgare un po' i temi eh bisogna stare attenti poi nella divulgazione a dire effettivamente che appunto sono dei prodotti che eh hanno hanno il loro impatto sono comunque prodotti che sono sostanze chimiche come diceva chimiche come diceva appunto Marco Buoni poco fa perfetto sì quindi anche secondo me può essere forse fuorviante la definizione di naturale perché prodotti in modo industriale quindi con eventuali emissioni di CO2 in atmosfera per la propria produzione di questi refrigeranti ultima cosa poi saluto direi che nessuno lotta con nessuno qua ma tutti lavoriamo assieme per un lavoro migliore per un clima migliore perché alla fine tutti qua siamo apposta per essere uniti nel clima decarbonizzazione migliorare l'ambiente e ovviamente ne abbiamo da guadagnare tutto il settore di espansione ricordiamoci ci mancano persone che lavorino eh in questo settore ci mancano abbiamo richieste che non riusciamo a soddisfare di persone qualificate professionali con eh pazienza ma anche con tanta voglia e entusiasmo perché è un settore bello ed entusiasmante il il nostro quindi assolutamente il mio ultimo messaggio da darvi abbiamo bisogno di persone qualificate quindi aiutateci a trovarle facciamo pubblicità tutti insieme aiutiamoci tutti insieme in questo settore siete d'accordo come no sicuramente sicuramente bisogna lavorare insieme benissimo grazie a tutti direi che avete qualche altro commento da fare se no direi che abbiamo risposto a tutti meno male visto che la chat era particolarmente vibrante la chat non sono riuscito a seguirla completamente ma è abbastanza vibrante questa chat di oggi Ernesto qualche ultima cosa da dire no volevo sottolineare come detto nella presentazione di cercare di lavorare tutti insieme quindi coinvolgere più attori della catena possibili all'interno del del nostro impegno per dire no agli HFC illegali e quindi quando vedete alcun tipo di attività possibilmente illegale cercate veramente di eh inserire le vostre segnalazioni sulla integrity line per favorire la lotta al contrabbando. Grazie Ernesto. Marco ultima parola. Sì e appunto lavoriamo insieme eh noi ci siamo ci siamo insieme a cento studi ci siamo insieme a chi vuole appunto lavorare insieme a noi per la sostenibilità del settore. Grazie a tutti allora grazie a tutti grazie che sia stato con noi quattro persone fino alla fine anzi con venticin minuti di ritardo quindi no al traffico illegale di HFC no al traffico illegale in generale quindi viva tutte le sostanze a basso GVP e viva il settore dell'affeggiazione e condizionamento. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Buona giornata. Grazie. Vi lascio solo con un ultima con un ultimo regalo di Natale la settimana prossima esattamente tra una settimana vi ho lasciato il link in chat avremo il super webinar saranno presenti tredici tra i principali eh esperti eh esperti tredici tra i principali esperti nazionali del freddo parleremo insieme del settore del settore del settore RAC parleremo insieme di refrigeranti naturali quindi un argomento che per certi versi si ricollega a quello che abbiamo detto oggi vi invitiamo a partecipare vi invitiamo ancora una volta essere con noi per quello che sarà un po' il nostro evento di eh di di fine anno una prospettiva su quello che sarà il settore del freddo nel duemilaventidue. Ringrazio ancora il nostro ospite di Ingegner Buoni Ernesto e Marco e vediamo appuntamento ancora i prossimi webinar del Centro Studi Galileo. In quel caso ci faremo in quel momento ci faremo gli auguri di Natale. Assolutamente. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie. Ciao. Buona giornata.